Ringrazio moltissimo i ragazzi dell'Istituto Don Milani di Montichiari. Ringrazio tantissimo per questa iniziativa che prendono nella giornata mondiale della Terra. E li ringrazio per aver messo in pratica, nella sostanza, quello che Don Milani ci diceva, cioè del prenderci cura. Dobbiamo prenderci cura della Terra. Prenderci cura della Terra vuol dire non soltanto prenderci cura dell'ambiente, e già questo è una cosa straordinaria. Prenderci cura della Terra vuol dire prenderci cura anche di tutte le persone che vivono sulla Terra, comprese quelle che neanche conosciamo, comprese quelle che immaginiamo ci siano per un qualche motivo contro. La Terra implica la capacità di pensarci tutti insieme, e il pensarci tutti insieme implica questa idea di una sostenibilità che allo stesso momento deve essere ambientale, deve essere sociale, deve essere umana. Quindi grazie ragazzi, ringrazio voi e tutti i ragazzi e le ragazze del nostro Paese che oggi celebrano questa giornata mondiale della Terra. La Terra è l'ambiente, l'ambiente vuol dire l'acqua, vuol dire i suoli, vuol dire l'aria, vuol dire le piante, vuol dire gli animali, vuol dire le nostre città, vuol dire la nostra cultura e vuol dire soprattutto tutte le persone che vivono insieme su questa Terra. Noi abbiamo bisogno di proteggere la Terra, abbiamo bisogno di tutelare la Terra, abbiamo bisogno di curare la Terra. Ecco, proprio per che siete un istituto che si chiama Don Milani, siate voi i portatori di questa fondamentale intuizione. I care. Io mi occupo, io mi preoccupo, io mi faccio cura e io sarò curatore. Siatelo e questa credo che sia una delle funzioni più belle, più importanti che possono fare le nostre scuole. Grazie a tutti ragazzi.